Benvenuti a tutti ragazzi e ragazzi qui oggi è un video di Zetaraptor Natale è passato, il periodo per fare i buoni è passato E oggi infatti faremo un po' i malandrini, un po' le persone cattive Perché di fatti andremo a giocare con il cacciatore da strand in crogiolo Ovviamente una sottoclasse, una build che sta facendo molto discutere Che sicuramente avete già trovato e avete già insultato nelle vostre partite crogiolo Oggi la andremo a provare insieme per ottimizzarla Tutti i pro che può avere questa build Tutti i modi in cui potete sfruttare anche le copie e i tessutoidi Tutta la build si basa intorno al fatto che noi giocheremo con il nostro sesto coyote Per avere una doppia schivata Perché grazie alla natura spirito in tessuto potremo ogni volta che schiveremo Rilasciare una nostra copia che all'impatto farà danni e rilascerà tre tessutoidi Insomma avremo doppia schivata, quindi due opportunità per creare tessutoidi In aggiunta all'altra natura seta della vedova che ci fornisce un'ulteriore granata Utilizzato la granata e tessutoidi noi avremo in totale quattro occasioni per creare tessutoidi Tessutoidi che ovviamente non è che facciano tanto danno o che facciano tanta paura Esiste poi il frammento filo dell'evoluzione che li potenzia e gli fa togliere fino a 45 l'uno addosso Per il resto gli altri frammenti sono un po' arbitrari Io consiglio in particolar modo filo della generazione che infliggere danni genera energia delle granate Perché vogliamo puntare come vediamo da statistiche ad avere più mobilità e disciplina possibile Proprio per tirarne quante ne vogliamo per averle sempre a disposizione Inoltre proprio perché punteremo anche sulle granate Filo dell'ascesa ci permette ogni volta che tiriamo una granata di ricaricare le armi E di avere efficacia in area e maneggiovolezza bonus Questa cosa è un'ottima cosa soprattutto perché andremo a giocare con una mitraglietta da strand Lo utilizzo un po' per cazzeggiare l'immortale So che è forte ma sto utilizzando un roll con surplus schiusa proprio perché voglio essere bastardo Il termine esatto è bastardo, infame, insomma datemi voi l'aggettivo che più preferite Il perché questa build è così forte e perché spavare questa cosa è così forte Perché i modi con cui potete utilizzare le copie sono diversi Potete sfruttare i tessutoidi per creare un'azione di push C'è un'azione aggressiva in cui dopo aver lanciato una granata o aver fatto esplodere una coppia Voi proseguite insieme a loro in modo da disorientarli In modo che loro magari scappano oppure saltano o provano a scappare a tessutoidi E voi chiudete l'uccisione Potete utilizzare le granate con tessutoidi come loro solito per chiudere una kill E vi assicuro che vi inseguono per parecchio tem Insomma sono veramente una noia da avere contro Oppure potete sfruttare le coppie per giocare con radar nemico Vi basterà piazzarle prima di un angolo Prima di piccare di un angolo che loro avranno il radar sempre a tipo Penseranno che siete dietro l'angolino e potrete stando a distanza Chiudere una kill veramente facile Un altro modo se siete one shot o semplicemente volete fare i bastardi Piazzando una coppia standogli esattamente dietro appiccicato Potrete sparare al nemico Mentre loro non potranno iltarvi sub Ma dovranno prima far esplodere la coppia E stare attenti a non venirci sui poi dai tessutoidi creati Inoltre contro i pad player è una build molto forte Perché le coppie hanno i massi Insomma sarà difficile per un pad player, un console player poterti traccare dietro una coppia Hanno molteplici utilizzi ed è questo che rende una build veramente forte Ma andiamo a scoprire e a provarle insieme in game Quindi andiamoci a fare un bel polio di partite in crogiolo E io vi ricordo che in descrizione trovate il link al canale Twitch live ogni sera dalle 21 Aspettare che mi si sta fulminando la lampadina Con una botta si risolve tutto Nuovo gioco da fare in compagnia è Indovina qual è il mio personaggio tra questi sei Vediamo chi indovina Chi indovina vince una bella visita dal proctologo Bene boys and girls Oggi siamo nel fantasioso universo di moltiplicità Questa incredibile mappa Per giocare con quella build che sta letteralmente spezzando il crogiolo in due Che questa non è una build Non è una build, non è un loot out Tu qui stai rappresentando un'ideologia, un'armata Potrebbero tranquillamente arrestarti per aver provato a organizzare un tuo esercito personale E quello che cazzo sta facendo fermo sulla collina Ma piuttosto ogni singolo cacciatore vale come un'armata di 12 incredibili tessutoidi Tessutoidi che c'è da dire che sono veramente cattivi Sono di una cattiveria inaudita Soprattutto quando devono andare contro di me Un po' come tutte le cose nel gioco Ovviamente Quando la usi te fa cagare Quando la usano l'altro Sanno i tessutoidi che letteralmente diventano Valentino Rossi Le clerk per dio Superano, driftano e inseguono gli avversari C'è da dire che questa è una di quelle build che sta facendo veramente discutere il crogiolo E quando si parla di spam di abilità Penso che sia proprio l'esempio migliore Perché sì, il titano da vuoto forse è peggio Ma ne parleremo in un prossimo video Però questa build rappresenta lo spam in persona Raga, letteralmente hai le abilità sempre Abilità che Pure se non fanno tanto danno Perché alla fine levano solo 45 Comunque rompono il cazzo C'è da dirlo Come le domande dei parenti Arcenone de Natale Ti chiedono la fidanzatina Il lavoro Come va la scuola Non so domande che fanno proprio male dentro Insomma, come sempre Io vi mostro la via Però Poi viene accollate tutte le responsabilità Raga Il supermercato vende i coltelli Poi siete voi A decidere se piantarlo Dentro qualcuno Insomma Se ci volete solamente affittare le zucchine Poi se avete voglia di utilizzarla Provarla Perché sicuramente verrà nerfata Quando non si sa Perché Se c'è una cosa Di cui non è tanto famosa La Bungie È ovviamente Il tempo con cui prendono determinate azioni E guarda quanta gente c'è Però Parola mia signori Parola di Zedraptor Che vale veramente zero Che prima o poi La nerferanno Che poi guarda Cioè doppia copia Posso rompere le copie Per creare ulteriori tessutoidi Da mandagli appresso Guarda E io lo vedrò semplicemente morire Diciamo che Ovviamente Tolto il lato rotto Della build La cosa che più mi piace Di questa build È che ti permette di Paitare sempre Che col fatto che hai Un sacco di modi Per uscire da tante situazioni scomode Sapete che io Ho sempre giocato Come so con la Monocchio Col Titano Perché mi piace Soprattutto queste partite 6v6 Muovermi Andare in giro Sparare Anche osare Anche morire a cazzo di cane Fa parte dell'esperienza L'importante È che io Mi diverta insomma Ditemi se invece È divertimento Quello di questa persona Guarda Guarda C'è sta gente che si diverte A stare ferma per ore C'è gente che si diverte A guardare i cantieri autostradali E c'è gente invece Che preferisce Andare all'azione Capito Poi ovviamente Come ogni cosa Come vi ho già detto Nel video Riguardante il crogiolo Non è tanto il problema Averne uno contro Ma già quando ne hai Due Tre Che siano trials Che siano Partite di quick play Iniziano a essere Veramente tanti Non puoi proprio più Muoverti Signori fortezza Vorrei una mappa Un po' più piccola Perché diciamo Che spammi meglio Spammi meglio È più divertente Quello È laggiù Fortunatamente Spara gli altri E io sono morto Signori ma che lobby Incredibile è che tutti Giocano solare Sono l'unico Rincoglione Che usa la strand Quasi un coglione Ad avervela consigliata Mamma mia signori Questa mitraglietta Trita Immortale Non so quante volte L'hanno provata a nerfare Ma Continua a tritare Dove siete? Fatevi vedere Perché sono tutti A prendere le bandiere Quella per te Guarda qua Gliela piazzo qui Così lui esce e muore Sta gente Mi sta per bene addosso Esplodi amore mio Ma quanti ce ne sono addosso Ma che è? Oh ma piovono Ma sembra il round dei zombie Ma che è scattato? Non avete lasciato Quello zoppo È la cosa incredibile Che li abbiamo letteralmente Fatti tutti Ignori Esci fuori Te lo fai Sei più forte Bravo Quanta gente c'è Uh merda Beccate questa esplosione Cosa più bella Che noi Ricarichiamo le armi Letteralmente Sia schivando Sia tirando le granate Quindi signori Possiamo utilizzare anche armi Come i 120 Che di solito Hanno pochi colpi Oppure non ricaricano Tanto velocemente Oh come dicevo prima Proprio per giocare aggressivi Pannaie in faccia Pannaie in bocca Mamma mia Comunque regà Io voglio bene alla culio Ci ho fatto il video Molto divertente Ma Martello igno È proprio un'altra Categoria di arma Martello igno Non è un 120 È una macchina Che merda Due volte che sto in serie Due volte che giro l'angolo Ci sono 20 persone Che Che mi fiss Che mi fissano E mi giudicano Only HS Guarda qua Come si mette la copia Verranno baitati dalla copia Noi gli rilasciamo Un po' di tessutoidi E se i tessutoidi Andassero dritti Per favore Anziché Avece la convergenza Delle ruote Fatte col culo Ogni tanto I tessutoidi Mi parano a Ferrari Porca roia Che pigliano E vanno a muro Signori che cosa sta succedendo Mamma mia signori Vieni qua Vieni qua pure te Che bello signori Si vede Comunque il divertimento Proprio di giocare Libero Di giocare Col cazzo Che mi pare Di non dover Per forza Rai a dare Sudare Ma poter Appunto creare Queste azioni In mezzo a mille persone Regà Andate 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 mie copie Prego Ma che sta a fare I giretti Ma che sta a fare Il blu tornato Ma che cazzo è Gardaland Oddio Oddio quanti so Oddio quanti so Mai fatto una quadrupla Con sta super Per veramente Trovarli tutti vicini Di solito Muoio prima Volevo dirvi Prima di Trajardane In questa bellissima Incredibile partita Che sicuramente ci farà Sognare Ed emozionare Che a breve Ci sarà un altro Concorso Un altro Evento In cui potrete Volendo vincere Dei golosissimi Emblemi Quindi vi ricordo Di seguirmi Su Instagram Mettetevi là Ogni tanto Mi mettete anche like Magari mi mandate Un messaggino Una buonanotte Un messaggio d'amore Fate voi Perché oggi Che dove registrare I video I miei tessutoidi Ti fanno cagare Perché non mi vogliono bene Gli ho dato pure un nome Regà Un nome da tessutoide Potrebbe essere Tranquillamente Guido No Bello come nome Guido È proprio l'idea Di uno che va A cercare Quelli di contro Proprio l'idea Di uno stalker Di un pedofilo Mamma mia Che Ed ciottino matto Guarda che bello Gli metto Gli lo metto là Il tessutoide Ma cos'è Guarda come l'ho betato Ok Mi piace Quando diventate Dei bersagli Semoventi Demoliti Vediamo di caricare Sto vermone Sì Fammi vedere Il verme più grosso Di chi è Che fino a ora Ha assaggiato Solo i tessutoidi Capiti Un po' De bigattini Fammi assaggiare Sto camola gigante Fammi vedere Verme Per 15 Per 20 di vermone Per 20 di vermone Guardalo La tripla È l'arma più soddisfacente De sto gioco Cioè tu immagina Loro che si vedono Arrivato Sto cazzo De salsicciotto Verde gigante Che esplode Ma hanno quittato Partire Partire è già iniziata Che vuol dire Che sicuramente Riceveremo Un caloroso Benvenuto Da tutte le super Del quartiere Bello Come l'ho Abbedato Easy copia All'angolino E si vola E uno Siete troppi Mamma mia Raga Martello Igno È The God The God L'arma Degli dei Mamma mia La prossima volta Ci stanno le trials Ne farmo 72 Porco 2 Finchè non lo rollo No Godroll De più Finchè pure il papa Non mi fa l'applauso Per il drop Che ho trovato È vero che Come diceva Un grande saggio Il Godroll Non esiste Ma il Godroll Sei tu Alla fine Il Godroll È un po' come Gesù Cristo Le divinità Cioè chi ci crede E chi no Come dominio totale Andatemi Brodi È troppo forte È troppo forte Questa build Signori Guarda che bello Poi con le schivate Col fatto che Che puoi Tranquillamente Recuperare Tutti i colpi E così Vorresti prendere B Sarebbe un peccato Se io ti lanciassi I miei Pokémon Anzi I miei PAL Signori Questo game Stiamo facendo Il devasto Signori Che razza Di game Veramente Una partita Della Madonna Peccato fosse Già Iniziata Se no Questo game Superavamo Abbondantemente Le 50 kill Che dire Signori La build È rotta Ma questo Lo sapete Già Perché a voi Al gioco State giocando Sicuramente più di me Io ormai Più o meno Al di là delle live E video che creo Preferisco anche Rilassarmi un po' Da altre parti In modo tale Da tornare carichi Per quando Riuscirà Il prossimo DLC L'ultimo DLC The Final Shape Qui sarà per tutto Spero che il video Vi sia piaciuto Ci becchiamo Un'altra build Su Crogiolo Fatemi sapere Se avete consigli Qualcos'altro Da propormi In chat E noi ci becchiamo Al prossimo video Bella raga Grazie a tutti